Ofelia Malinov, nel tuo viso c'è la delusione 3-1 per la Serbia, che partita è stata? Sì, sicuramente siamo amareggiate per non aver portato a casa questa partita, sapevamo di giocare contro una grande squadra, quindi ce la siamo giocata. Ovvio che abbiamo perso, quindi qualche occasione a svantaggio nostro è andata. Penso che dovevamo chiudere il primo set perché eravamo sempre in vantaggio e ci è pesato un po' non chiuderlo, perché infatti dopo ci hanno castigato quando giochi contro queste squadre. Poi penso che l'unico rammarico è forse non aver rischiato qualcosina in più. Ci sono stati tanti errori, quelli hanno pesato parecchio sul risultato. Sì, ovviamente quando giochi contro una squadra che ha lo stesso livello di cambio palla, di break point, ogni errore fa la differenza e quindi penso che rispetto a loro abbiamo sbagliato molto di più. Non è facile ma c'è già da pensare alla finale di domani, in palio un bronzo pesante. Beh certo, domani è un'altra finale, vogliamo assolutamente arrivare a conquistare questa medaglia, quindi bisogna risettare e ripartire per la partita di domani. Grazie.